Musica Benvenute, allora oggi album numero 17 del Librochet, l'ultimo album per l'anno 2014 che va fino al 14 gennaio 2015 e intanto auguri di buon anno a tutti e Librochet fa dei grandi auguri di buon anno perché mette tantissimi prodotti scontati fino al 40%, più prodotti fine serie, più tantissime altre offerte che io direi di iniziare subito a sfogliare Eccoci qui, allora direi di partire subito e guardiamo subito la prima offerta, wow, perché abbiamo le matite occhi, quelle in stilo waterproof al prezzo speciale di 5,95€ l'una e questo è davvero un super prezzo, mai visto un prezzo così basso qui abbiamo tutto il make up scontato fino al 40%, tutte le pagine che vi faccio vedere abbiamo infatti le matite per sopracciglia, vedete le 5,95€, super offerta le eyeliner in stilo, le matite occhi 3 in 1, tutto scontato le eyeliner in penna, 7,95€ e mai così basso andiamo avanti, gli ombretti in crema e il col morbido e degli ombretti quelli a durata 12 ore anche i mascara ovviamente sono scontati del 40% quindi tutti i mascara, anche il nuovo, quello con l'elixir interno ecco, mi veniva la parola e il volume vertige, quindi sono davvero tutti scontati è ora di fare scorta, anche i fondotinta, soprattutto il nuovo ed è la giovinezza radiosa o è questo che sapete che io adoro perché quello zero difetti che è davvero meraviglioso la base, il fondotinta in crema, la cipria ed è in polvere quindi davvero tutto scontato fino al 40% anche la terra, il blush e il correttore sapete che io adoro questo tipo di correttore e ve l'ho sempre detto e ora abbiamo wow per le labbra, sempre scontati del 40% abbiamo le stilo labbra, questa è lunga durata, 5,95€ con colori meravigliosi e andate a vedere le mie recensioni perché ve ne ho parlato anche la stilo labbra zero difetti, quella in colore e il resetto gral rouge in tutte le colorazioni a solo 9,95€ quindi wow! andiamo avanti perché abbiamo i gloss e i prodotti per le unghie quindi anche questi scontati fino al 40% e davvero sono ottimi prodotti lo sapete benissimo andiamo avanti perché abbiamo anche tutti gli accessori per il make up in questo caso i dei pennelli, tutti i tipi di pennelli per occhi ed è quello per sottosciglie, le pinzette sempre scontate ed è la BB cream e ora andiamo con le offerte per la cura del viso perché abbiamo in questo caso scontato del 40% la crema fondamentale giorno della linea anti age global 19,95€ mai vista un prezzo così basso altre linee, trattamento super strutturante sempre da giorno 19,95€ della linea Rich Creme sempre wow che offerta andiamo avanti perché abbiamo sempre della Rich Creme anche il balsamo restrutturante questo nutrizione intensa per il viso e il collo che è il super strutturante a 14,95€ davvero un super prezzo e ora andiamo avanti con l'altra offerta vi faccio vedere quelle per il corpo in questo caso abbiamo, eccolo qua, oltre agli altri prodotti il latte nutriente intensivo, quello per pelli molto secche che sapete che è fantastico in inverno 5,95€ mai vista un prezzo così basso è il momento di fare scorta abbiamo poi anche il... vi faccio vedere se le poti in offerta gli altri ci sono sempre la maschera all'argillo marocchino questa a viso e a cappelli 9,95€ sapete che la linea è nella tradizione di Hammam ed è ottima tra l'alettamente anticellulite ed è della linea Clevesetal abbiamo il cerebro riducente globale quello ad azione globale 19,95€ più gli altri prodotti ovviamente complementari e ora andiamo a queste offerte perché della linea Mattino Jardin abbiamo, guardate, il latte corpo a solo 4,95€ ovviamente tutte le profumazioni a un prezzo così basso non l'abbiamo mai visto andiamo avanti eccoci e ora abbiamo le promozioni dei profumi da donna perché con l'acquisto di ogni profumo ok? ogni tipo di profumo da donna ve li farò vedere tutti ma adesso inoltre vediamo questo aggiungendo 1€ possiamo scegliere o il gel dolce profumato o il latte col profumato quindi il codice giusto eccolo qua con il prezzo giusto sarà quello che vediamo qui quindi ad esempio a questo Moment de Bonheur 29,95€ il profumo più 1€ abbiamo a 30,95€ le de parfum più il gel doccia oppure a 30,95€ le de parfum più il latte corpo ok? quindi profumo più latte corpo o gel doccia a 1€ e questo c'è di tutte le linee ora ve le faccio vedere quindi abbiamo le Tendre Jasmine le Voix d'Ambre sempre stessa cosa le Neroli Vanille Noire andiamo avanti eccolo qua Solixir Solixir Purple sempre stessa cosa 1€ in più poi abbiamo eccolo qua le Colcure d'Amore ed è Common Evidence eccoci Common Evidence è quello intenso e poi abbiamo aspettate perché c'è voglio farvi vedere abbiamo quello da 50ml oppure quello da 100ml quindi potete scegliere anche la versione del profumo e ora abbiamo quelli da uomo quindi ed è sempre il stesso discorso il profumo ad esempio questo è il green il profumo più 1€ e abbiamo il gel doccia oppure 1€ e abbiamo il deodorante quindi sempre a prezzo normale 26,95€ profumo andiamo più 1€ 27,95€ con il deodorante o 27,95€ con il gel doccia quindi partiamo abbiamo il green ecco il nature Ambre Noir Evidence Home e Hogger Hogger non so come si pronuncia andiamo al momento più atteso perché abbiamo le offerte fino al 50% queste sono le fine serie o fine scorta in questo caso abbiamo le smalti della linea luminelle il colore ha scelto ovviamente con il codice a 1,50€ la matita occhi giambo sempre 3,95€ il gloss 3,95€ e il mascara con le paillette dorate 3,95€ il tris di ombretti 7,50€ molto molto carino il eyeliner nero 7,95€ e il set delle due creme queste della linea Purcal 1000€ quelle in edizione limitata perché sono decorate 7,95€ il set da 2 davvero wow sapete che adoro questo prodotto andiamo avanti e abbiamo sempre di fine serie guardate che belli i rossetti gran rouge i due colori intenso il bordeaux o le come si chiama violine guardate che belli ovviamente il colore scelta con il codice 9,95€ davvero un ottimo prezzo i rossetti idratanti sempre fine serie oppure il rossetto colore brillante 7,95€ scelete voi il colore smalto brillante i due colori che vanno in fine serie 3,95€ scegliete voi il colore il fluido illuminante 9,95€ e gli ombretti mono quelli che andranno in esaurimento scegliete voi tra questi meravigliosi colori 6,95€ oppure gli ombretti in crema lunga tenuta 6,95€ oppure e questa è l'ultima possibilità perché poi andrà a fine scorta lo stile occhi waterproof nel colore verde questo è un verde acido 5,95€ fine scorta anche per la mousse sfogliata detergente 4,95€ mai vista a un prezzo così andiamo avanti con un'altra promozione promozione dei deodoranti perché abbiamo i deodoranti rollon della linea Jardin du Monde a 1€ se ne acquistiamo un altro quindi acquistiamo il primo a prezzo intero a 3,95€ il secondo a solo 1€ potete scegliere voi tranquillamente la profumazione il primo con il codice nero eccolo qua 3,95€ il secondo al prezzo speciale di 1€ con il codice dove c'è l'importo di 1€ davvero un'ottima promozione stesso discorso anche con i gel doccia tutti quanti quindi sia quelli questi qui e i gel doccia gel crema della linea culture bio primo a prezzo pieno tra 50 secondo a 1€ e anche tutti gli altri delle altre profumazioni quindi gel doccia in questo caso il primo a prezzo pieno 2,50€ e anche nella pagina dopo ci sono tutte le profumazioni il primo a prezzo pieno 2,50€ il secondo a 1€ e potete scegliere tranquillamente due prodotti oppure 4 6 dipende il primo sempre a prezzo pieno il secondo con lo sconto e quindi il prezzo di 1€ gli ultimi che ne abbiamo fatto vedere anche questi ovviamente fanno parte della promozione quindi quindi vi ricordo l'album numero 17 valido fino al 14 gennaio 2015 eccoci abbiamo sfilato tutto il catalogo allora ve lo ricordo è l'album numero 17 che valido fino al 14 gennaio 2015 qui sotto il link per contattarmi per tutte le informazioni per gli odini sapete che sono sempre a disposizione e anche il link per scaricare il catalogo in formato pdf sul vostro computer e non mi resta altro che augurarvi buon anno e buoni acquisti naturalmente profumati con il magicato dal mondo di Veroshé grazie a tutti grazie a tutti